ciao a tutti e ben trovati in questa bellissima giornata di sole se siete pronti incominciamo ci mettiamo sul bordo anteriore del tappetino nella posizione della montagna sciogliamo un pochino le spalle rodandole indietro una alla volta e poi rimaniamo fermi stabili gli occhi sono chiusi senti bene la pressione delle dita dei piedi a terra dei talloni radrezza bene la schiena porta il bacino leggermente retro verso attiva l'addome inspirando porta su le braccia e sulleva lo sguardo alle mani e ispirando scendiamo giù in un piegamento puoi rendere le ginocchia legate all'inizio rimaniamo qualche istante in questa posizione mentre stendiamo ed estendiamo le ginocchia si pieghiamo le ginocchia procediamo scudendo la testa davvero metri avanti e indietro e poi andiamo a piegare un ginocchio alla volta come se volessimo camminare sul posto raddrizzata nella schiena inspiri ed espiri adesso piegando le ginocchia portiamo le mani a terra e andiamo indietro con la gamba destra scendiamo giù appoggiamo il ginocchio destro veniamo su con le braccia con il busto cerchiamo di tenere le costole vicine di non allargarle troppo però solleviamo il torace verso un'altra inspiri e espiri le mani a mano a terra e il ginocchio sinistro si poggia vicino al destro dalla posizione a quattro zampe andiamo un pochino in avanti pieghiamo i gomiti e scendiamo a terra con petto e mento il bacino rimane su sollevato scivoli in avanti la pancia tocca a terra inspiri e ti sollevi in un mini cobra espirando ci spingiamo sui gomiti e ci appoggiamo sui talloni posizione il bambino rimane qualche respiro qui e torniamo a quattro zampe ora solleviamo il bacino stendendo le ginocchia e entriamo nella posizione del cane anche qui vogliamo entrarci gradualmente quindi teniamo le ginocchia un pochino piegate all'inizio e ci concentriamo invece di più sull'estensione dei gomiti sulla rotazione fuori delle spalle e sulla schiena dritta dritta e lunga il coach è orientato al soffitto e qui un tallone per volta lo spingiamo a terra espira profondo anche qui vai a scuotere la testa ora lentamente vediamo le ginocchia passetto in avanti col piede destro scendi giù con il ginocchio sinistro e di nuovo torni su con le braccia magari riesci a spingere il bacino in avanti verso il tallone portiamo giù le mani e con un passo piede sinistro accanto al destro cioè non andiamo in avanti a metà espirando utanasana giù ginocchia rilassate morbide piegate schiena lunga inspiri sali su porti le braccia in alto espiri chiudi nella posizione della montagna ripetiamo con la gamba sinistra inspiri e lunghi in alto e spingi a terra inspiri e lunghi la schiena metà ora la gamba sinistra che fa un passo indietro il ginocchio sinistro si spoggia giù sulle braccia bus e poi prontare il bacino in avanti in modo che si avvicini un po al tallone del piede destro le braccia scendono mani a terra il ginocchio destro si spoggia vicino al sinistro siamo a quattro zampe e da qui andiamo a sbilanciarci un po in avanti pieghiamo i gomiti senza che si allarghi scendiamo giù metto il mento e scivoliamo a terra ruota dietro le spalle stringi le scapole cobra e bambino un paio di respiri qui e torni su pieni a quattro zampe e poi la posizione del cane rimani qualche istante nella posizione del cane a testa in giù anche qui di nuovo camminando sul posto schiacciando prima il colore e poi l'altro a terra ed espirando profondamente bene adesso il piede sinistro si poggia a terra scende il ginocchio destro salgono le braccia su in alto scendi mani poggiate piede adesso accanto al sinistro allungamento in avanti a metà espiriamo giù srodoliamo ci saliamo in alto astautarasana e tadasana la montagna proseguiamo inspiri e espiri allungati a metà adesso tutti i due piedi vanno indietro e ti ritrovi in panca quando sei in plank non scendere con il bacino non affossarti con le spalle mantieni le scapole più su verso il soffitto e un pochino di retroversione quindi spingiti sulle punte dei piedi ginocchi a terra fiema e piegamento in giù inspiri ti apri un cobra o in un cane a testa in su quindi stacchi le cosce da terra ruoti sulle punte dei piedi cane a testa in giù anche qui rimaniamo un po' respirando camminando sul posto e bene sale la gamba destra su in alto il ginocchio si piega il tallone si avvicina al gluteo sinistro e ruoti l'anca in fuori quindi sale il ginocchio destro verso l'alto cominci a rodeare nell'aria ampi giri ampi cerchietti e inverti altra parte ok adesso guardi il ginocchio verso il petto e scendi a terra andiamo a appoggiare la mano destra a destra ruotiamo il piede sinistro in modo da metterlo in mezzo rotale e apriamo il braccio sinistro in alto quindi ci allunghiamo portando il braccio verso la testa sentiamole anche salire al soffitto e ruotiamo il braccio sinistro in avanti sciogliendo bene la spalla inverti il senso adesso vieni su e scendi sulla gamba tesa ritorni giù e ancora ritorni giù e posizionate il cancello che in realtà è simile alla posizione del triangolo ma abbiamo la gamba appoggiata quindi ritorni a terra con entrambe le mani pieghi il ginocchio destro riportandolo verso la punta del naso sal la gamba destra su espirando questa volta porti il piede destro a terra ruoti il piede sinistro in fuori e ti sollevi in guerriero due manteniamo questa posizione di forza e stabilità scivoliamo indietro sulla gamba tesa andiamo giù con la mano all'interno del piede posizione dell'angolo laterale e ancora vengo su e ruoto giù e continuo a lavorare con il trasferso dell'addome le gambe sono forti resta qui porti il piede destro in avanti scendi in skandasana scendiamo nella voce del surfista stacchiamo il piede sinistro e cerchiamo di poggiarci a terra con il bacino quindi a questo punto teniamo le mani dietro per aprire bene le spalle e andiamo a scendere e a salire con il ginocchio bene lasciamo il ginocchio in giù portiamo il piede sul dorso e ci allunghiamo in avanti sulla gamba tesa cercando di non curvare la schiena stringi il pavimento bellico e allunga di senso sbilanciati nelle spalle bene torniamo su, solleviamo di nuovo il ginocchio questa volta lo apriamo in esterno apriamo nuovamente le braccia e ispiriamo, andiamo a scendere sulla gamba tesa senza chiudere il busto, senza chiudere le spalle ma mantenendoci in apertura così torni al centro scivoli inclinandovi dall'altra parte segui i pochi di gomito e torni su allunghi la schiena ancora e su e scendere e via di su inclinazione profonda ok riportiamoci con il ginocchio sollevato ci diamo una spinta con le mani e ruotiamo in affondo sulla gamba destra saliamo su nel guerriero uno le braccia sono in alto l'addome è forte il torace è composto e ci sediamo bene sulle gambe ruota le braccia indietro porta le mani a terra stendi la gamba destra posizione della gambe posizione della gambe ruotati di nuovo sulla sinistra ci allunghiamo in avanti a metà e espirandoci tiriamo giù andiamo ancora su a metà prendiamo i gomiti con le mani e ci dolloliamo porta le mani a terra spingi i godis e vai a muovere le anche a destra e a sinistra lentamente sdrogoliamo la schiena avviamo le braccia e ruotiamo il piede destro a destra ed entriamo nel triangolo quindi scivolo tutto a destra contengo le braccia parallele al pavimento la coscia davanti è attiva e poi sistemo le braccia una su una in giù e scendo ho un muro proprio ho una macchina insomma una parete dietro di me quindi vi faccio vedere proprio come andrebbe fatta correttamente la posizione del triangolo immaginando proprio di avere una parete dietro e non voler staccare la schiena nelle spalle nelle anche perché spesso mi capo di vedere questo e quindi vedete come c'è distanza tra spalle e bacino invece vogliamo mantenere l'asse di spalle anche sulla stessa linea quindi dal triangolo esco dalla posizione ritorno nel guerriero 2 ritorno nel guerriero 1 scendo con le mani a terra e vado in panca ginocchia giù posizione del bambino prima di ripetere la sequenza con l'altra gamba pegiamo a quattro zampe e disegniamo un po' non di cattastretto quindi inspiri inarchi la schiena espiri e curvi ancora inspiri espandi il petto espiri porti le scapole in su e tiri l'addome di nuovo inspiri sali con il sacro il colcice dal soffitto e spiri invece le mani in giù posizione neutra sali nella posizione del cala testa in giù cammina sul posto ancora qualche istante e saliamo in alto con la gamba sinistra questa volta quindi pieghi ruoti fuori lanca e cominci a ruotare grandi cerchici conduzioni del ginocchio dell'anca tre nell'altra direzione ok portiamo il ginocchio al petto e scendiamo con il ginocchio a terra quindi troviamo il piede destro saliamo col braccio destro ci troviamo quindi su una linea dritta dritta mano ginocchio e piede destro porto il braccio su lo allungo oltre la testa facendo questo sento come si apre la parte destra del torace come neanche vengono tirate sul soffitto quindi vado a ruotare il braccio e scioglio con la spalla stessa cosa dall'altra parte torno su scioglio indietro sulla gamba sulla gamba tesa aprendo la parte sinistra del torace torno al centro correggo la posizione dell'assetto lombosagrale e ritorno in palca laterale o asse laterale ritorno su posizione del cancello e di nuovo asse laterale un'altra volta e ritorni con le mani appoggiate piede destro sulla punta ginocchio sinistro che viene su verso il naso stendi la gamba sinistra in alto cane su tre zampe espiri parti piede destro tra le mani quindi ruoti il piede scusate il piede sinistro tra le mani il piede destro lo ruotiamo in fuori e saliamo nel guerriero due e anche qui ci stabilizziamo bene nella posizione tenendo il ginocchio lineato con l'anca le braccia bene aperte e il core attivo giù le anche si aprono scivoliamo indietro sulla gamba tesa e scendiamo con la mano all'interno del piede posizione dell'angolo laterale e ancora invertiamo il guerriero peace for warrior guerriero di pace e angolo laterale fortissimi le gambe vieni su inspiri espiri esce ok ritorniamo su portiamo le mani al centro del petto ruotiamo il piede verso l'interno e scendiamo e scendiamo giù in scandata quindi ci mettiamo qui portiamo il ginocchio verso il piede destro quindi sali e scendi sali e scendi e ci veniamo a mettere con il bacino frontale al burdo possedere del tappetino inspiri ed espiri e esegui una flessione davanti magari all'inizio molleggi un pochino se vuoi ti sostieni a destra con la mano per non sbilanciarti troppo con il busto e sali nella posizione qualche respiro ok vieni su adesso avriamo il ginocchio portandolo fuori avriamo le braccia controlliamo bene non spanciare troppo in avanti scivoliamo sulla gamba tesa e andiamo dall'altra parte compensando piegando il gomito vieni su allunga tutto il fianco tutto il lato del busto sentiamo bene il trasverso dell'addome ok rivolti il piede su ginocchio su andiamoci a mettere in affondo in avanti e da questa posizione sali nel guerriero uno e scendi mantieni bene questa posizione e spiri adesso scendi giù con le mani stendi la gamba vieni nella posizione della piramide puoi lasciare il tallone dietro sollevato scendi giù allunga la schiena e ruota a sinistra e facciamo quello che abbiamo fatto prima quindi espiriamo scendiamo giù solleviamo bene gli schi verso il soffitto e poi allunghiamo la schiena e dondoliamo un pochino col bacino destra e sinistra srotra la schiena vieni su apri le braccia orienta il piede sinistro in avanti in modo che i due talloni siano lineari tra loro quindi rinforzi le gambe allarvi le braccia rinforzi il corpo sci uni in avanti con il busto espirando e poi si stendono le braccia una suona in giù rimani nella posizione e ritorni su riprendi il guerriero 2 vieni in avanti il guerriero 1 porti le mani a terra e passo indietro con la gamba sinistra ritorni in plank scivoliamo in avanti ginocchi a terra petto e mento giù posizione degli 8 punti vieni in giù in posizione mona apri e non copri un cane a testa in su e di nuovo cane a testa in giù cammina sul posto recupera e respira ok camminiamo in avanti chiudiamo portiamo i piedi tra le mani e ce lo diamo a metà espirando mani alle gambe e espirando ce lo diamo in su e portiamo le mani al centro bene adesso ci sediamo a terra sede di giù e prendiamo la posizione della farfalla un po' da conasa quindi andiamo a unire le piante dei piedi e andiamo a svolazzare un po' quindi spettiamo le ginocchi a terra quindi abbiamo un'extra produzione delle anche ginocchia in su allarga leggermente e adesso andiamo una gamba in extra produzione e l'altra in intra produzione quindi porti il ginocchio verso il tallone dell'altro piede e continui così bene andiamo entrambe le ginocchia ruote a destra il busto è dritto le braccia si aprono vado ad inclinarmi indietro a sinistra e poi scivolo a destra apro le braccia adesso vado a fare una torsione a sinistra e poi una a destra ok da questa posizione vado ad allungare la gamba che sta dietro così e quella che in avanti è piegata e la l'ampiezza dell'angolo che si crea tra tibia e femore dipende da quanto più immobili le anche quindi per alcuni può essere questo angolo per altri può essere quest'angolo qui quindi non sforzate teniamoci a terra con le mani e andiamo a dondolarci un po' a destra e sinistra cominciamo a sentire tirare l'interno la parte anteriore della coscia sinistra e la musculatura profonda dell'opsoas adesso scendiamo in avanti portiamo anche i gomiti giù cerchiamo di non cadere tutto a destra ma spingiamo quel piede sinistro in modo da accompagnare l'altra sinistra vicino al palmetto quando abbiamo le anche allineate a terra dovremo cominciare a sentire di dare il gluteo destro e la musculatura profonda dell'anca il piriforme in particolare quindi anche qui apri il petto allunga bene la schiena ispiri e fuori l'aria riporti le mani su avvolgi la gamba dietro portandola in avanti e fermi il tallone all'esterno del ginocchio destro quindi chiudiamoci così allunghiamoci bene in su e ruotiamo a sinistra abbracciando il comito con il ginocchio la mano sinistra si poggia in linea col tuo bacino e spiro mi apro e mi lungo indietro e esci dalla posizione riprendi la posizione della farfalla e riprendi e adesso la stessa cosa ma dall'altra parte quindi le ginocchia sono orientate verso sinistra quindi apri le braccia ti inclini primo a destra torni su e vai dall'altra parte o contro posizione vieni su torsione a destra torsione a sinistra e adesso anziché dargli le spalle la gamba destra la allunghiamo indietro ci portiamo dritti con il busto con il bacino quindi saliamo su e ci dondoliamo un po' a destra un po' a sinistra cerchiamo di tenere contenuto l'addome attivo l'addome lei è come il prezzemolo c'è niente da fare quindi dopo che ci siamo scaldati un po' ad un dolaccio a destra e a sinistra ci guardiamo in avanti con i gomiti e cerchiamo di spingere con il piede in modo da appoggiare l'altra destra e quindi stai non affossare le spalle mantieni sempre aperte spalle vetto e lungo il collo sta facendo le fusa ok cominciamo ad uscire dalla posizione portiamo le mani su e ci sbilanciamo sulla sinistra per avvolgere il ginocchio destro in avanti quindi ce lo andiamo in su e con il braccio sinistro andiamo a prendere il ginocchio destro per ruotare in dietro lei gli piace stare nei buchi nelle grotte ok da qui esci dalla posizione minuta incrizziamo le gaviglie ci mettiamo a terra e ritorniamo la posizione i carponi quindi andiamo a fare un altro movimento di cut stretch che è perfetto in questo momento no inspiri ed espiri minuta con me grattu dai inalchi la schiena espiri lenti inspiri ed espiri ok posizione neutra punta i piedi sali e mi cana testa in giù e cerchiamo e cerchiamo bene di appiattire peloni a terra adesso da qui andiamo un pochino indietro con i piedi allargando bene il cane e scendiamo sui gomidi entrando nella posizione del delfino nel delfino è importante che la schiena sia dritta e che il busto sia proteso verso le gambe quindi non abbiamo un busto tutto in avanti ma è come se fosse un cane la testa in giù perciò magari posso piegare un po' le ginocchia e spingo il busto verso le gambe e sollevo il bacino al soffitto rimani un po' in questa posizione aprendo bene le spalle e lentamente scendo posizione del bambino andiamo a riposare le braccia portando le mani ai talloni e ci mettiamo qui ispirando saliamo concludiamo con un paio di minuti di respiro quindi prendiamo la posizione comoda gambe incrociate o seduti sui talloni portiamo le braccia rilassate con i palmi sulle ginocchia o se preferite non mudra raccogliamo la mano sinistra dentro la mano destra gli occhi si chiudono l'attenzione va al respiro l'aria che entra e esce cerca di simulare il suono dell'oceano come delle onde dell'oceano fai una specie di eco prendi sonoro il tuo respiro il tuo respiro come se volessi appannare un metro davanti a te in questo modo e metti questo suono con le labbra chiuse sia quando inspiri che quando espiri e porta la tua attenzione tra le sopracciglia prova a contare i tempi di ispirazione e quelli di ispirazione questo pranayama si chiama kujai ed è un respiro molto potente che calma la mente ti porta nel momento presente ora alziamo le braccia ci stilichiamo su ed ispirando uniamo le mani davanti al cuore namaste e ringrazio per avermi seguito buona pratica e buona giornata